Adam, Griscoll, mi sentite? Orko, io e tuo padre siamo al sicuro per ora, ma nessuno si salverà se Skeletor troverà il sigillo di Hiss. Cos'è il sigillo di Hiss? Diventare re è una gran cosa, ma diventare un dio suona decisamente meglio, non credete? Dobbiamo impedire che Skeletor trovi quel sigillo e rispendi un esercito di soldati, serpente e defuti. C'è qualcuno laggiù? A tutta Eternos serve il tuo aiuto. Come uomo, macchina o mostro. Dobbiamo fermare Skeletor qui e subito per Grayskull e per tutta Eternia. Per tutta Eternia. Voi, monalli, siete quasi troppo adorabili per distruggerli. Credi che un attacco combinato potrebbe rallentarli? Finalmente me l'hai chiesto. Fanno il potere! Non ci sono buoni e cattivi. Solo il potere. E lo voglio io! E-Man! Vuoi fare tutto il rumore che vuoi, ma non hai più tempo! No! Coraggio! Dominatori dell'universo, datemi tutto il vostro potere! Hanno il potere! Azione e intrighi? Questo sì che fa per me. Avanti, eroici guerrieri! Eh, i men e i dominatori dell'universo, in realtà. Il titolo possiamo deciderlo dopo. All'avventura! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti